Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Spostandoci sulla Fibili per lavori un chilometro di coda tra Empoli e Montelupo in direzione Firenze e tra Ginestra ed Empoli Est in direzione Mare. Chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione Mare. Sulla statale 64 Porrettana all'altezza della galleria del signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Infine un'informazione di servizio l'area di Montepulciano Ovest sulla A1 è sprovvista di GPL. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!